la mente e i suoi difetti insegnamenti del buddha allora questo video è molto importante perché tratta questo argomento che ci permette di gestire quelli di conoscere intanto e gestire quelli che sono o quelli che vengono considerati i difetti della mente negli insegnamenti del buddha ricordiamo che la filosofia buddista forse meglio della psicologia moderna ha spiegato la mente come funziona e non soltanto la mente grossolana che quella studiata dalla psicologia moderna ma la mente sottile questi insegnamenti spesso non sono stati presi in considerazione nel senso che sono poco conosciuti al di fuori diciamo del mondo se vogliamo iniziatico perché poi giusto per dare alcune indicazioni nel buddismo ci sono tante correnti e diciamo che perché buddha diede insegnamenti diversi in tempi diversi questo credo che sia una anche una delle caratteristiche interessanti quelle del buddha perché il buddha si è sempre adattato alle persone alle quali insegnava e dava e diceva delle parole questo credo che sia un concetto importante per portarle al risultato perché se io dico la stessa cosa a due persone completamente diverse otterrò dei risultati diversi perché come dire non è che la parola viene detta o una cosa viene fatta viene detta e l'altra persona la recepisce così punto il processo di e questo è una delle caratteristiche della mente diciamo così il contatto quindi con un oggetto si percepisce il contatto con un oggetto si percepisce attraverso proprio l'oggetto stesso in questo caso l'oggetto è la parola che viene detta ma attraverso la nostro potere diciamo sensoriale e attraverso discernimento attraverso l'interpretazione di quella cosa e quindi se il discernimento è diverso alla fine il contatto sarà diverso quindi talvolta per ottenere uno stesso contatto cioè uno stesso effetto devo dire due cose diverse a persone diverse e infatti il buddha fece fece questo e poi quando i discepoli si ritrovarono e nella fine non ci capirono molto dopo la morte del buddha e nacquero diverse filosofie ad esempio per quanto riguarda la presa di rifugio no che è il affidarsi diciamo al buddha gli insieme del buddha al dharma nel sanga ad alcuni disse basta che reciti la formula prendo rifugio nel buddha prendo rifugio nel dharma prendo rifugio nel sanga sanga sarebbe la comunità spirituale il dharma sono gli insegnamenti e il buddha è lo stato mentale dell'illuminazione basta che reciti non importa quello che pensi basta che reciti la formula e ad altri disse no non importa recitare l'importante come si direziona il pensiero quindi stessa cosa viene detto in modo diametralmente opposto ma questo perché le persone erano diverse e questo è uno dei primi insegnamenti secondo me della mente cioè il contatto il contatto che cos'è è come la nostra è uno dei fattori sempre presenti nella mente perché nella nostra mente ci sono dei fattori che sono sempre presenti che ci permettono di osservare di interagire con ecco di creare interazione di creare interdipendenza uno di questi è il contatto il contatto è quello che mette in contatto appunto con qualcosa con qualcosa o un'idea una persona una parola un oggetto di percezione chiamiamolo così e quindi il contatto cioè l'oggetto di il contatto è formato dall'oggetto di percezione in questo caso l'oggetto di percezione è la parola detta però potrebbe essere una cosa che vedo e il potere sensoriale è il potere dei miei sensi noi come esseri umani li abbiamo simili ma non proprio uguali c'è chi sente di meno c'è chi è dal tonico c'è chi recepisce le cose in un certo modo ma poi c'è la coscienza sensoriale che fondamentalmente poi discernimento e l'interpretazione cerebrale diciamo sulla base di tante cose di quello che che io percepisco insomma e comunque il contatto genera sempre una sensazione che è un altro degli effetti delle delle caratteristiche onnipresenti presenti nella mente quindi che formano la mente sostanzialmente intanto c'è un altro concetto molto importante quindi tanto per concludere quindi il contatto genera discernimento il discernimento comunque genera la sensazione la sensazione mi dà un'attenzione diciamo un focalizzarmi che è un'altra cosa che esiste sempre su quell'oggetto e poi ottengo diciamo genere un'intenzione un'intenzione che è la volontà di agire di fare qualcosa ma al di là di questo dobbiamo dire che il corpo è sempre unito alla mente noi abbiamo quest'idea no che spesso le persone pensano io posseggo un corpo io posseggo una mente ma chi cos'è questo corpo e chi è questo io che possiede il corpo e la mente cioè è come se se io dico potrebbe significare se esistesse un io che possiede il corpo e la mente significherebbe che questo io esisterebbe a prescindere dal corpo e dalla mente nel senso che se io posseggo un'automobile per dire io posseggo un'automobile posso esistere tranquillamente anche se non posseggo più l'automobile sono due cose non dico separate perché siamo tutte in interdipendenza però che possono essere molto legate anche ma possono esistere separatamente quando una persona dice parla di mio figlio ad esempio può essere molto legata al figlio ma può continuare a resistere se il figlio muore ad esempio anche se è un dolore molto forte ma non è che non che cessa di esistere se il figlio muore e invece quest'io non esiste in realtà perché l'io è composto è della natura di corpo e mente quindi essere della natura di corpo e mente è diverso che cioè il nostro io è della natura di corpo e mente cioè vuol dire che è composto da corpo e mente e non può esistere a prescindere da corpo e mente perché è fondamentalmente il corpo e la mente sono le componenti ma dove c'è una c'è l'altra se si dissolve una si dissolve anche l'altra se sperisce il corpo sperisce la mente se sperisce la mente sperisce il corpo non può esistere un corpo senza la mente non può esistere una mente senza un corpo perché sono due componenti della stessa unità quindi non esiste un io terzo diciamo che è come possiamo dire che possiede questo corpo e questa mente per quanto riguarda poi il concetto di morte giusto per dare questa idea nel buddismo tibetano la parte che si reincarna è un corpo molto sottile che è una mente molto sottile che anche loro vanno assieme esiste un corpo energetico e una mente energetica esiste un corpo grossolana e una mente grossolana che sono quelli studiati dalla psicologia appunto esiste un corpo sottile o energetico e una mente energetica che sono emozioni, sono l'aura e poi ma non è questo il tema e poi un corpo sottile, una mente molto sottile che è quel continuum che diciamo passa di vita in vita però corpo e mente sono sempre uniti quindi quando parliamo dell'uno parliamo dell'altro la mente è possiamo dire una, come dire, una degli aspetti se vogliamo del corpo e quindi questo è un concetto fondamentale il primo concetto fondamentale è quello che due cose sono della stessa natura ma con apparenze diverse perché si manifestano in modo diverso si manifestano nel corpo, si manifestano nella mente ma in realtà sono della stessa natura quindi sono intrinsecamente connessi sono della stessa natura con apparenze diverse ma uno non può esistere senza l'altro invece ci sono cose che possono anche essere molto presenti, molto unite ma non sono della stessa natura cioè ad esempio una madre con suo figlio possono essere molto uniti ma può morire il figlio, può morire la madre e l'altro continua a esistere questo lo dico perché? perché la nostra mente ha dei fattori sempre presenti e quindi sono le componenti della mente che sono appunto il contatto la sensazione, il discernimento, l'intenzione e l'attenzione però poi esistono altri componenti che invece non fanno parte della mente e sono ad esempio i difetti della mente oggi voglio parlare dei difetti della mente ne sono tanti diciamo che poi alla fine se vogliamo, come dire, sintetizzare ma poi andrò più in dettaglio derivano, diciamo, fondamentalmente da quella che chiamiamo ignoranza e l'ignoranza è un difetto della mente diciamo così che poi si dirama in due effetti principali in due, come dire alfieri principali che sono l'attaccamento e la rabbia che poi poi vedremo come in realtà è un po' più complessa la cosa però il concetto l'insegnamento principale che ha detto Buddha è che la nostra mente è pura cioè cosa vuol dire pura? vuol dire che questi fattori, diciamo così non sono della natura non fanno parte della natura della mente cioè non sono intrinsecamente connessi non è che la nostra mente non può esistere senza questi fattori questi fattori sono fattori inquinanti ma che possono essere eliminati e la nostra mente può continuare a esistere mentre ad esempio non può essere eliminato il contatto il contatto è diciamo quello che dicevo prima è la coscienza percettiva i sensi e il potere sensoriale e l'oggetto insomma il contatto è quello che ci mette in contatto appunto non potrebbe esistere la nostra mente senza quello come non potrebbe esistere la mente senza il discernimento senza la sensazione perché la sensazione poi è fatta anche sul corpo ma corpo e mente sono connessi mentre tutto il resto anche le cose positive in effetti sono dei fattori mentali sì ma non sono facenti parte della natura della mente vi sono dei fattori appunto virtuosi che di cui oggi però non parlerò e dei fattori negativi difetti che invece sono quelli diciamo che invece sono quelli che in qualche modo inquinano la nostra mente ma il fatto che la nostra mente sia pura non vuol dire che è stata pura e poi si è sporcata perché se no cioè la nostra mente è perfetta secondo il senamento del Buddha cioè se la liberiamo diciamo da questi fattori negativi da questi difetti può diventare come dire si può raggiungere la mente del Buddha la buddità è uno stato interiore quindi esiste una mente del Buddha e esiste un corpo del Buddha e questo è molto importante perché se invece i difetti mentali facessero parte della mente stessa come dire fossero delle componenti naturali allora non potremmo eliminarli e quindi tanto vale che ciccia non c'è niente da fare siamo la nostra mente il nostro corpo è fatto di questi fattori per cui non li posso togliere ma invece secondo l'insegnamento del Buddha la mente pura la mente perfetta noi possiamo raggiungere la mente e il corpo del Buddha e quindi che significa eliminare questi che poi vengono chiamati veleni mentali difetti mentali allora come quali sono intanto e poi vedremo qualcosa insomma intanto è importante capire allora bene sono il Buddha diede tanti insegnamenti e diciamo e vi sono sei fattori mentale radice non benefici diciamo così il tutto nasce comunque tengo a precisarlo dall'ignoranza quando parliamo di ignoranza da ignorare che cosa due sono le forme di ignoranza insomma fondamentali la prima è l'aggrapparsi alla realtà così come noi la percepiamo perché noi percepiamo la realtà come oggettiva intrinseca e scollegata da noi cioè noi facciamo parte della realtà è il discorso che facevo del traffico quando noi siamo nel traffico ci lamentiamo e urliamo imprechiamo ecco sempre pieno di traffico cioè ma non ci rendiamo conto che noi facciamo parte del traffico cioè quello dietro si lamenterà di noi che lo stiamo ostacolando no? quindi questo è un concetto per capire che è inutile che ti la mente del traffico perché tu fai parte del traffico qui noi siamo in interdipendenza con tutto il resto non è che io sono lì e c'è il traffico e io sono avulso dal traffico sono un'altra cosa e porca miseria guarda che traffico che c'è e non riesco a muovermi guarda qua guarda là inizio a sviluppare rabbia inizio a sviluppare rabbia perché non capisco che io stesso faccio parte del traffico che io sono una goccia ma che fa parte del traffico quindi sono in interdipendenza in collegamento e quindi che cosa mi arrabbio se io faccio parte di quella cosa però noi prendiamo tutto questo cioè nelle relazioni sentimentali ah quello è uno stronzo quello è una stronza mi ha fatto questo mi ha fatto quello ma quello magari è stronzo con te ed è un agnellino con un altro per dire è buonissimo con un altro e quindi cosa significa che quell'altro ha messo in atto delle forme di comunicazione diverse e quindi ha interagito diversamente perché anche l'altra persona non è così come noi la percepiamo in senso assoluto e dipende dall'interazione che noi abbiamo io non posso vedere una persona posso vedere l'immagine di quella persona attraverso il mio potere sensoriale il mio discernimento e quindi poi la mia intenzione le mie azioni le mie attenzioni che farò quindi noi non possiamo percepire la realtà al di fuori di noi stessi fondamentalmente cioè non abbiamo questo potere di questo è un po' quello che dice anche la fisica quantistica lo sperimentatore e e l'esperimento sono strettamente connessi non può esistere un esperimento senza l'interferenza di uno sperimentatore cioè lo sperimentatore fa parte dell'esperimento ecco diciamo in questo modo però noi aggrappandoci invece al fatto che pensiamo di essere autonomi indipendenti crediamo di sviluppiamo rabbia ad esempio o sviluppiamo attaccamento questi qua questa è la prima ignoranza sviluppiamo rabbia perché ci attacchiamo a un oggetto di desiderio ad esempio pensiamo che un oggetto di desiderio qualunque esso sia possa darmi gioia eccetera eccetera ma in realtà è sempre l'interazione con quell'oggetto e discernimento come lo interpreto eccetera quindi tutto dipende dall'interazione siamo interdipendenti non siamo né dipendenti né indipendenti ma il credere di essere totalmente indipendenti dall'altra cosa ci fa diventare dipendenti certo perché se io penso che è l'oggetto che mi dà la felicità divento dipendente invece è l'interdipendenza quindi ho il potere di cambiare modo di interagire di cambiare discernimento e quindi io non sono più dipendente però da questa ignoranza nascono poi tutti i difetti mentali e anche l'altra ignoranza è quello del credere che le cose non cambino cioè da quando è iniziata è iniziato questo video che sono passati i 20 minuti le cose sono cambiate io non sono più quello di prima avrò la barba un po' più lunga i capelli forse no e quelli no ma in realtà anche i capelli crescono devo essere sincero ogni tanto più lentamente ma devo tagliare pure quelli ogni tanto però comunque qualcosa è cambiato no e quindi tu incontri una persona oggi passa una settimana la rincontri e pensi che sia sempre la stessa persona e in realtà non è così perché se fosse sempre la stessa persona noi se no non cambieremmo no cioè saremmo sempre uguali in realtà magari è cambiata poco la cosa ma è cambiata però e qua il problema è che le nostre immagini mentali invece restano statiche e non cambiano le nostre immagini mentali mentre le cose sono permanenti cioè impermanenti in continua trasformazione le nostre immagini mentali sono permanenti permanenti non vuoi dire che durano in eterno durano quel che durano ma poi diciamo quando avviene il cambiamento cambia immagine mentale cioè finché vive quell'immagine mentale lì è permanente cioè io ho un'immagine mentale della mia auto e fin tanto che quell'immagine mentale lì riesce a sostenere diciamo la realtà dell'auto manterrò la stessa immagine mentale cosa significa? che anche se l'auto andando si consumano un po' le gomme si che ne so si consumano un po' i freni eccetera eccetera la mia immagine mentale dell'auto se c'è un piccolo bollino che una volta non c'era ma l'immagine mentale dell'auto non è sempre la stessa è ovvio che se la sfascio contro un muro e la distruggo allora devo cambiare l'immagine mentale dell'auto perché quell'immagine mentale che ho non riesce più a sostenere diciamo la nuova realtà dell'auto e quindi devo cambiare l'immagine mentale e metterò l'immagine mentale dell'auto sfasciata diciamo così però le due immagini mentali sono permanenti perché quella lì di prima è rimasta in vita fin tanto che non è stata soppiantata dall'altra mentre invece l'auto nel frattempo prima di distruggersi aveva sempre e comunque un processo di trasformazione costante come avviene nelle persone è ovvio che quindi questo ad esempio nelle relazioni le cose cambiano ma non me ne rendo conto e quando poi la persona mi lascia allora devo cambiare l'immagine mentale perché la nuova immagine la vecchia immagine mentale non può più sostenere la nuova il nuovo fatto ecco quindi invece noi ci aggrappiamo anche se ci pensiamo però poi di fatto agiamo nel mondo come se le cose fossero permanenti quindi i veri difetti mentali diciamo i veri difetti mentali diciamo della nostra mente nascono da questi due fattori dall'ignoranza cioè dal credere ripeto perché è importante dal credere che noi siamo indipendenti da tutto quello che ci circonda e invece siamo interdipendenti interagiamo e il fatto che interagiamo fa sì che siamo anche impermanenti quindi ci trasformiamo come si trasforma tutto costantemente non cioè uno a livello logico può anche credere ma poi di fatto nella realtà agisce come se invece fossimo permanenti e fossimo indipendenti dal resto questo genera dipendenza e quindi attaccamento da un lato e genera rabbia dall'altro lato genera rabbia perché lo sperimentiamo nel traffico ogni volta che genera ogni volta che siamo nel traffico iniziamo a imprecare a bestemmiare a fare a recosare rendendoci conto che noi ne facciamo parte ad esempio e invece la invece la come possiamo dire invece la il crederci indipendenti genera invece genera invece dipendenza perché io credo che la mia felicità dipenda esclusivamente da quell'oggetto di desiderio se avessi quell'oggetto di desiderio sarei felice invece come dicevamo non è così primo perché cambia si trasforma secondo perché non esiste un oggetto di desiderio a sé esiste sempre in funzione di me diciamo mentali come faccio a eliminare i veleni mentali deve eliminare l'ignoranza l'ignoranza si sostituisce con la saggezza cioè rendersi conto profondamente che siamo vuoti di esistenza intrinseca cioè non esistiamo diciamo a 300 come dire non esistiamo indipendentemente dal resto quindi siamo in interdipendenza e quindi siccome essere in interdipendenza vuol dire che non esiste un'unica realtà esiste un'infinita realtà perché io percepisco le cose in un certo modo ma poi le percepisco in funzione del discernimento in funzione delle sensazioni in funzione dell'attenzione in funzione del contatto e poi che va sono tutte cose che variano costantemente quindi la realtà in realtà è vuota di esistenza intrinseca cioè non esiste in modo oggettivo esiste ne esistono infinite realtà no è quello pirandello uno ne sono centomila e questa è una saggezza perché se eliminiamo questo eliminiamo anche il concetto di permanenza e quindi concepiamo che le cose sono permanenti automaticamente se ne va la rabbia perché non ha più senso di esistere e se ne va se ne va l'attaccamento ma è ovvio e quindi se ne vanno tutti gli altri veleni mentali che adesso andremo a vedere evidente che però tutto questo dobbiamo svilupparlo come possiamo dire in modo profondo cioè purtroppo la pura comprensione razionale diciamo così del bene del bene del male la pura comprensione razionale dell'ignoranza della saggezza non è sufficiente perché noi come dicevamo prima nel buddismo viene spiegato il sutra di buddha lo spiegano abbiamo tre livelli abbiamo anche una mente un corpo energetico una mente un corpo molto sottile e la mente e il corpo molto sottile sono quelli che rappresentano la nostra vera essenza quindi dobbiamo far scendere diciamo così questi apprendimenti prima devono passare ovviamente attraverso la parte come dire grossolana comprensione sto comprendendo poi piano piano devo assimilarli farli scendere più in profondità fino a farli diventare parte della mia essenza nel momento in cui saranno veramente parte della mia essenza allora avrò raggiunto l'illuminazione che raggiungere l'illuminazione vuol dire proprio quello eliminare i veleni mentali ma eliminarli alla radice quindi eliminare l'ignoranza alla radice e quindi come dire traldire il fare c'è di mezzo il mare cioè traldire il fare c'è di mezzo il vincolo però non è così immediato non è così se vogliamo banale non è così semplice fare questo ma dobbiamo andare in questa strada piano piano farli scendere in profondità e il concetto di illuminazione poi alla fine è questo fondamentalmente secondo gli insegnamenti acquisire in profondità questa consapevolezza però possiamo farlo secondo gli insegnamenti del Buddha il Buddha ha dato questi insegnamenti perché lui è riuscito a farlo quindi come dire e poi secondo la tradizione non soltanto lui cioè il Buddha è uno diciamo che ha insegnato una strada ma come dire se io inseguo una strada e soltanto io arrivo ad avere questa illuminazione secondo questi insegnamenti ci sono uscito io ma se gli altri non è praticabile piatti invece nel Buddismo appunto dando insegnamenti diversi quindi poi i vari discepoli però anche attraverso poi interpretazioni un po' diverse perché le interpretazioni sono state diverse sembrerebbe poi io non è che posso essere come dire che ci siano state tante persone che hanno raggiunto questo stato di pace interiore insomma ma anche attraverso culture diverse io credo che ad esempio personaggi come madre Teresa di Calcutta ad esempio mi viene in mente trasferiva una pace che rappresentava sicuramente uno stato di illuminazione una pace mentale anche se probabilmente non seguiva anzi sicuramente seguiva tradizioni di altra natura insomma quindi la cosa bella del buddismo è che non è che il buddista è uno all'etichetta sono buddista perché è un percorso interiore diciamo così no cioè non è un percorso anche molto personale che poi non preclude la possibilità no cioè allora quindi quali sono questi allora ci sono sei difetti fondamentali sei fattori mentali radici che si chiamano affliggenti che derivano comunque da quelli di cui ho accennato e sono l'attaccamento desideroso di cui abbiamo parlato prima allora in senso generale un fattore negativo un fattore affliggente non benefico è possiamo dire tutto ciò che sorge un fattore mentale negativo che si presenta con le caratteristiche di una forte non tranquillità facendo sì che il nostro continuum mentale la nostra essenza diventi fortemente non pacifica si tratta poi di fondo di una contaminazione mentale una contaminazione mentale è una mente che ogni volta che sorge rende il continuum mentale quindi la nostra anima fondamentalmente non pacifica e quindi ci sono appunto sei principali contaminazioni mentali da cui hanno origine tutte le azioni negative e violente che derivano poi sempre dal da quello che ho detto prima quali sono questi sei fattori sono l'attaccamento desideroso che cos'è l'attaccamento desideroso è un fattore mentale che è fortemente attaccato a qualsiasi oggetto a qualsiasi oggetto all'interno dei tre reami e la sua funzione è quella di generare sofferenza e l'attaccamento quando si parla di tre reami Buddha parla di tre forme di esistenza che sono la forma di esistenza del desiderio la forma di esistenza della non forma è la forma dell'assenza del desiderio cioè il reame del desiderio è praticamente il reame dove esiste il desiderio però vi sono tre reami di esistenza noi siamo nel reame del desiderio perché riusciamo a provare diciamo riusciamo a provare il riusciamo a provare il desiderio quindi è una continuazione mentale che appunto ci genera diciamo delle situazioni che non sono pacifiche fondamentalmente quindi questi tre reami comunque sono il reame della forma il reame della non forma il reame della forma il reame della non forma e il reame del desiderio il reame della non forma potrebbe essere interpretato come una sorta di buco nero però dove c'è vita secondo Buddha dove c'è spazio c'è vita e il reame della forma è un reame dove non vi sono tutti i cinque sensi nel reame del desiderio vi sono tutti i cinque sensi noi viviamo tutti e sei sensi perché c'è anche il senso della mente ma questo è una e quindi troviamo sofferenza e la mente desiderosa diciamo di ottenere qualsiasi oggetto che è visto come intrinsecamente erogatore di felicità quindi è il desiderio di avere di possedere qualsiasi oggetto l'attaccamento desideroso è la mente che vedendo gli oggetti esterni o anche interni come ad esempio qualunque cosa interna a noi o esterna a noi come attraente come separata da noi perché noi siamo anche in interdipendenza con quello che abbiamo all'interno si aggrappa fortemente ad essi e quindi genera sofferenza il secondo fattore mentale radice affliggente è la collera che cos'è la collera la collera è una mente diciamo che danneggia altri esseri senzienti attraverso appunto la collera generazioni danneggianti verso gli altri e poi soffre sia per se stessa sia per gli stessi oggetti diciamo di sofferenza perché crede che questi oggetti gli abbiano prodotto del danno della sofferenza e come l'esempio che c'è prima sono nel traffico e credo che sto soffrendo a causa degli altri che mi generano sofferenza quindi ci allontana dalla razionalità e ci genera dei comportamenti malsani ci sono persone che nel traffico si prendono a cliccate sulla testa per dire poi quello dice non trovo parcheggio nel momento in cui tu trovi parcheggio occupi un parcheggio quindi si lamenterà qualcun altro e quindi questo è un po' il concetto e quindi questo è un fattore è una mente crudele che non ha pazienza che desidera danneggiare desidera distruggere e la sua funzione mentale è quella di generare razioni non benefiche quindi poi c'è tutto il discorso del karma che ti ritorneranno e e di non permettere fondamentalmente alla felicità poi un altro veleno mentale radice è l'arroganza e l'arroganza che cos'è? è un'altra visione erronea che si basa sul fatto del pensare che noi siamo meglio degli altri che noi abbiamo qualcosa più degli altri essere arroganti e l'ego ipertrofico l'ego che si gonfia si concentra su un oggetto e lo disprezza diciamo così quindi si arroga il diritto di essere superiore è un senso di superiore io ho questo io ho quello io sono questo io sono quello non rendendosi conto che in realtà anche qua siamo in interdipendenza con tutti gli altri poi diciamo il fattore mentale radice qua ne parla quello generale è l'ignoranza dell'ignoranza ho già parlato prima è come dire è la madre di tutte è la madre di tutte la madre o il padre diciamo di tutte le di tutti i veleni mentali il fattore mentale che appunto ci impedisce di percepire la reale natura dei fenomeni e qua descrive due tipi di ignoranza l'ignoranza del non sapere cioè io non so e l'ignoranza anche se so mi aggrappo erroneamente ai fenomeni come se fossero reali cioè indipendenti e poi Buddha definisce c'è un altro veleno mentale radice il quinto che è l'indecisione vacillante è diciamo il fatto di sapere una cosa ma non portarla avanti vacillare è l'incertezza ad esempio io adesso ho non è che voglio dargli insieme mentre il Buddha ho spiegato questo concetto uno l'ha capito ma poi comunque è indeciso agisce comunque diversamente resta profondamente indeciso significa che non è ancora filtrato anche per me stesso cioè uno lo capisce a livello concettuale ma poi se non lo fa finire diciamo in in profondità la cosa resta ovviamente molto molto superficiale e poi abbiamo le visioni erronee una visione erronea è una visione errata appunto che si attiva per ostacolare il raggiungimento dell'illuminazione vi sono tre tipi di di visione le visioni corrette le visioni erronee le visioni neutre una visione corretta è quella dettata dalla saggezza cioè che ha eliminato l'ignoranza una visione erronea assomiglia a un qualcosa che io credo vero ma che in realtà non è vero è una visione neutra è diciamo un qualcosa che non mi genera problemi il le visioni erronee poi sono anche suddivise in cinque parti secondo le visioni secondo l'insegnamento del Buddha la visione della raccolta transitoria le visioni estreme il ritenere vere le visioni false il mantenere come superiore un codice errato di condotte le visioni erronee quindi si può molto approfondire ma in realtà la visione erronea è una percezione errata appunto della realtà ecco da questi sei fattori mentali radice sono i veleni mentali fondamentalmente nascono poi tutta un'altra sera poi il Buddha dà diciamo altri venti fattori mentali secondari ma non ha non ha senso poi approfondire questo è il nucleo fondamentale di quelli che sono i veleni mentali secondo gli insegnamenti del Buddha poi diventerebbe veramente estremamente complesso però questa è un po' la radice di questi insegnamenti bene metti un like se il video ti è piaciuto condividilo con tutti i tuoi amici seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale su tiktok fare una donazione al canale vecchia carampana fare una donazione al canale fare una donazione possibile basta andare nell'home page fare una donazione oppure sul canale ti puoi abbonare abbonare se è facile basta che vai nell'home page tastina abbonati dicendo tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci bene bene un saluto a tutti